Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetto 19. Il Dio sia lodato. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guostano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove le tignola e le ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, da sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e risprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a mammona. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Asservate le cili del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono i granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro. E chi di voi, con la sua sollecitudine, può giungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gili del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede. Non siate dunque in ansietà, dicendo, che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, perché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Amen. Il Dio sia la data. Pace del Signore.